Giustino Angeloni, dopo il cambio di guida tecnica la squadra ha cambiato marcia, adesso siete tornati al comando, l'obiettivo è quello di rimanerci fino alla fine? Sicuramente sì, siamo stati bravi e fortunati nel trovare un allenatore che ha delle esperienze assolutamente superiori alla media delle nostre latitudini. È un allenatore che ha lavorato molto in campionati superiori, è quindi molto preparato, molto aggiornato e che ha portato il contributo della sua esperienza su un materiale umano che già era buono. Questo però non significa sminuire il lavoro che ha fatto Alceo Esposito, noi se ci troviamo in questa posizione lo dobbiamo anche al fatto che Alceo ha vinto nove partite consecutive da tre punti l'una. E quindi 27 punti li ha fatti lui, il resto li ha fatti Giorgio Nibbio e speriamo di rimanere in questa posizione fino alla fine. Lei ha fatto tanto per lo sport a Chieti, Presidente Angeloni, dove vorrebbe portare la palla a volo in futuro? Se Chieti riscopre il gusto che aveva per la palla a volo negli anni in cui la Napolplast e la Latticigno hanno fatto la Serie A1, Alceo per esempio era lo schiacciatore di una squadra che aveva come alzatore Dvorak, il più grande alzatore del mondo in quel momento, che era passato per Chieti con la moglie che si era innamorato di questa città e di queste montagne. Bene, se Chieti riscopre questo gusto, allora non ci sono limiti, nel senso che il nostro obiettivo veramente può essere quello di andare in A2. Perché questo? Perché ecco la mia esperienza anche nel calcio, i costi della palla a volo femminile sono almeno per il momento infinitamente più bassi. Allora può fare un aumento di stipendio alle ragazze. Le ragazze hanno già tutto quello che si guadagnano. L'ultima, Presidente, ha parlato di calcio, in futuro Giustino Angeloni darà una mano a Filippo Di Giovanni? Me lo ha chiesto alcuni secondi fa Filippo Di Giovanni, ma voglio dire la domanda era pleonastica, perché la risposta è senz'altro sì. Io sono un raccattapalle della Civitella. Allora facciamo il titolo, Giustino Angeloni tornerà nel calcio oltre alla palla a volo. Ma va bene, Giustino Angeloni è sempre a disposizione, oltre che come tifoso sempre, su questo non ci piove, anche per quel modesto contributo che può dare.